ciao a tutti amici mi sto preparando per una missione però è facile questa qui è soltanto perché per guadagnare dei soldi però c'ho il salto il salto alo con l'alc nostre quindi è un po lunga perché però è un'esperienza ecco metto la pista d'atterraggio si giusto ora notte set armi ok armi in supporto si ce l'ho già perché l'ho fatta prima però mi sono fatto ammazzare perché ho sbagliato una cosa e non lo farò mai più non prenderò mai niente prima per fare il pieno mai niente ma vado così vale che meffere praticamente non prenderò mai niente né denaro né erva né droga ma tutto al ritorno alla fine perché la refurtiva che è questo che parla la refurtiva principale praticamente non si danneggia come mettono quello che mettono nella borsa certo che Pavel è veramente un ubriacone ok 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 va bene ok sono quasi pronto per il stato ok mi tre secondi ancora eh uno due tre vado ok brucia santo vabbè che fai niente dovevo allargarmi vabbè ho perso un giubbotto e questa guardia qui si può anche eliminare volendo vediamo che sono qua vai dove sei dove sei GPS tracker confirmed I have your position I will also access compound cctv once you are inside però poi si gira e quindi mi vede ok aspettiamo un attimo la pistola fa male o? 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 oh e tempo passo ok ok Senza un mirino Quei due là Segui Controll tower Disable it I can send in your reinforcements whenever you wish Oh O Yeah, this is my kind of engineering, wires and vaults, so simple, so easy to bypass. This is how you use the tool. The wires on the left must be connected to the values on the right. Go from top to bottom. ok qua ci siamo non so se togliere la corrente allora un momento io posso chiedere adesso adesso io chiedo ok sono arrivati dove me l'ha messo l'ho già preso? ok lanciarazzi dove l'ho mandato? minigun va bene potrei uccidere le guardie le due qui ma quando la telecamera guarda quella telecamera come gira ok qui sono andato un po' meglio mi sa che devo ammazzarli tutti ok no lights no cameras ecco ecco è meglio non avere testimoni ammazziamo quei due aspetta qua sotto c'è la telecamera non so eh non riesco a vederlo che cavolo è? e dall'altra parte vabbè ma tanto io l'ho disabilitate quindi vabbè non vorrei che dopo attaccano la corrente e vanno io così le ho spaccate ammazziamo sti due speriamo possa arriva uno arriva uno bisogna farlo fuori subito bisogna vedere quanti sono certo che è un umbriaco eh si è fermato si è fermato vediamo come fa a scattare sto alla maledetta maledetta non mi sta cazzo di me no qui continuano ad arrivare quindi devo andare via mi serve una moto grazie 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 vabbiamo a moto via Grazie a tutti. 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 Sono tutti al buio. E' domenica mattina 27 novembre ore 6.41. Grazie. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Andiamo a prendere sta cavolo di grappa. Allora. 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 Andiamo a prendere. e basta. Niente pieno. Niente. Niente. Allora. 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 Andiamo a prendere. Allora. 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 Ricordati, il solo modo in questo caso è il plasmacottero, e il solo modo da usare un plasmacottero è molto attenzionato. Il problema con plasmacottersi è che non sei attenzionato, si sono attenzionato. Certo, ho apprezzato il modo difficile. Prendete in l'Undersea Pipeline. At least sei above the waterline, ok? Non, non, non... Perchè hai bisogno di qualche coraggio per la città che hai avuto. Da quello che posso sapere, hanno scoperto la piscina di piscina. Hai bisogno di un altro modo fuori. S**t, più guardi! Solo perché sei fuori la scena del crimine del centri, non significa che non c'è tempo per l'upper-balistica FTS. Se ti piace, ti prendi. Un po' di là. Un po' di là. Un po' di là. Un po' di là. non è più in cui non è cazzo Grazie a tutti. 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 Vieni qua, bastardo. Grazie a tutti. 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 Ancora... E che cazzo... Tutti... I su... Un'altra... E... ... ... ... ... ... ... Ok... ... 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